La macchina della mobilità del personale docente è stata ormai avviata. Come sempre ne saranno coinvolte decine di migliaia di insegnanti che tentano in questo modo di migliorare la propria situazione lavorativa. Da qualche anno per molti di loro si tratta anche di ripristinare condizioni di vita normali. Parliamo dei docenti del Meridione che a seguito del famoso algoritmo utilizzato per le emissioni in ruolo del piano straordinario previsto dalla legge 107 nel 2016 vennero assunti nelle regioni del nord a centinaia di chilometri dalle loro residenze con innegabili ripercussioni negative professionali e familiari. Lo scorso anno in occasione della campagna elettorale la Lega e ancor più il Movimento 5 Stelle promisero che i docenti del sud in servizio al nord sarebbero ben presto rientrati a casa loro. Per la verità con le operazioni del 2018-2019 accadde molto poco. Quest'anno la situazione non sembra diversa anche perché è del tutto evidente che in mancanza di posti disponibili in organico di diritto risulta molto difficile ottenere un trasferimento e non saranno certo le poche centinaia di posti di tempo pieno istituiti con l'applicazione di una norma contenuta nella legge di bilancio a risolvere la situazione. Il rischio è che anche quest'anno l'unica via di uscita resti quella di consentire la mobilità annuale sui posti di sostegno anche ai docenti privi del titolo di specializzazione. Soluzione che, come è facile comprendere, non piace per nulla ai precari specializzati e forse neppure alle famiglie degli alunni disabili. Il tema, come potete facilmente immaginare, è molto caldo, interessa davvero decine di migliaia di insegnanti. Noi continueremo ad occuparcene. Commentate, mandateci le vostre esperienze qui sul canale YouTube, scriveteci e continuate a seguire il nostro sito www.tecnicadellascuola.it sul quale continueremo a parlare dell'argomento. Grazie.